Oggi, domenica 2 maggio, in Abruzzo si sono registrati 159 nuovi casi positivi al Covid-19, di età compresa tra 6 mesi e 89 anni, che hanno portato il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia a 71.603. Dei 159 nuovi positivi, 15 sono della provincia dell'Aquila, 82 di quella di Chieti, 13 nella provincia di Pescara e 45 del Terramano, con 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 3.032 tamponi molecolari e 664 antigenici, per un totale di 3.696 test ed un tasso di positività del 4,3%. Quattro i deceduti, che hanno portato il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.412, 60.458 i guariti, soltanto uno in più nelle ultime 24 ore. Pertanto sono 8.733 gli attualmente positivi, con 154 nuovi casi in più. 355 ricoverati in area medica, con 7 ricoveri in più nelle ultime 24 ore, mentre uno in meno in terapia intensiva, che ora ospita 31 pazienti. Gli altri 8.347 positivi al covid in Abruzzo restano in isolamento domiciliare, 148 in più nelle ultime 24 ore.